Tutto pronto, fischia l'arbitro, comincia Everton Newcastle, quarto di finale della quinta edizione della Premier League, primo possesso mosso dall'Everton. Ancora Tomassetti, conclusione, Torraga in angolo. Marani, Paolone sulla verticale, palla centrale su Nini, guarda lungo ma poi gira dall'altra parte dove arriva Tommaso Failla, entra dentro al campo, poi il pallone non passa, Mestriner atterrato dall'altro set della partita, Tommaso Failla, calcio di punizione battuto rapidamente con la palla dentro per Martini, Martini col mancino, largo. Marani, passa il 2, Marani zona tiro, allarga da Tomassetti, Tomassetti col destro, largo. Intanto ne mette 4 in barriera Torraga. Sempre Paolone e Cicoria sulla palla. Parte Cicoria, Torraga lo aspetta lì. Torraga ancora profonda, ancora verso Martini, questa volta la prende Milano. Cicoria riesce ad orientare Tomassetti, Tomassetti saltato, Torraga ma non riesce a depositare in porta, grande occasione qua per l'Everton. Fischia l'arbitro, comincia la seconda frazione di gioco, 0-0 tra Everton e Newcastle, l'Everton che deve vincere per raggiungere le semifinali. Newcastle che può anche permettersi il fareggio, vi sarà il migliore arrivo in classifica per la quinta edizione della Premier League. Milano, palla dentro per l'inserimento di Cicoria, preso da Vitelli, appoggia ancora per Milano. Cambio gioco, Tommaso Failla, stop, sguarda la porta, conclusione, Torraga manda in angolo. Palla in verticale per Arcangeli che la tiene in campo, deve resistere sul ritorno di Marani, passa Arcangeli che non riesce a concludere in un primo momento. Poi palla che gli rimane sotto al corpo, allora Mestriner finisce per terra, non c'è niente secondo l'arbitro, può ripartire l'Everton. Palla per Innocenzo Failla, spazio per il 5, entra in area, Failla la piazza, la mette sotto l'incrocio. E porta in vantaggio l'Everton, 1-0. Cicoria mette giù, in buca, conclusione col mancino di Tommaso Failla. E 2-0 per l'Everton, raddoppia il numero 7 dopo un minuto dal gol del numero 5 Innocenzo Failla. 2-0 Everton. Milano pronta la battuta con le mani, si avvicina a Nini, la palla è su Cicoria. Si gira, salta Vitelli, Cicoria, palla dentro per il mancino, ancora di Tommaso Failla. 3-0 per l'Everton e doppietta per il 7. Biassoni, anticipo di Tommaso Failla, prova a partire vincendo in pallo, la rimessa è sua. Nini, sale Lotto, palla allargata, Tomassetti, c'ha spazio per il destro, lo prova, Torraga la blocca. Torraga, Vitelli, palla per Arcangeli, arriva a forte Milano, esterno di Arcangeli. Nini, in posta Innocenzo, Failla, palla per Cicoria, tocco sotto e 4-0 per l'Everton, segna il 9. Prova ad andare da solo il 10, chiuso. Cicoria, prova ad andare, ancora Cicoria, palla allargata. Nini, dall'altra parte per Tommaso Setti, che fa 5-0, segna anche il 10. Biassoni, Bruni, prova ad andare, chiuso, riconquista Tomassetti, riparte Nini. Prova ad andare Lotto, esterno, per allargare da Innocenzo Failla, attacco per Cicoria. Cicoria incrocia, fuori. Tu accomola Milano, Cicoria, controlla, si gira, palla allargata verso Innocenzo Failla, che non passa, arriva Nini, adesso il 5. Tesa dentro Torraga, poi scivola Vitelli, ma riprende l'equilibrio e anche la palla. Biassoni, Bruni, 1-2, arriva Arcangeli, prova ad andare il 16, ancora Arcangeli. Palla verso Martini, Arcangeli, poi arriva Biassoni, Crivellari in uscita. Crivellari, per Cicoria, salta con lui Peruzzo che colpisce. Biassoni, lotta con Nini, attacco di Nini. Bruni al volo, Crivellari non la tiene, poi sì. Salzo Bruni. Pronto Crivellari che in un primo momento non è stato reattivo a bloccarla, poi invece è stato reattivo sì a tornare su quella palla e ad anticipare l'arrivo di Martini. Nini ha un tocco dentro, Cicoria, stop. Cicoria, gol mancino, Cicoria, Torraga, para sulla linea, arriva Peruzzo. Palla dentro, Cicoria, calcia col destro, Cicoria. E trova il gol del 6-0 e la doppietta per il 9. 3-0 per l'Everton. Bruni, uno contro uno. Bruni sul fondo, Tomassetti in chiusura. Bruni prova a rompere il raddoppio. Milano riconquista, palla che esce fuori, ma finisce qui. Everton 6, Newcastle 0. Everton in semifinale. Grazie. Grazie. Grazie.